Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento, quello che ci vede fare i ragionamenti, dare le cifre di questo periodo emergenziale che stiamo vivendo come comunità, fare il punto della situazione e dare alcune comunicazioni che sono fondamentali per la nostra vita quotidiana. Parto dai numeri oggi, numeri particolari. La prima cosa sono 25.436 le persone positive al Covid in regione Emilia-Romagna, vale a dire 259 casi in più rispetto alla giornata di ieri. Sono 2.519 le guarigioni. Il dato che dobbiamo prendere con grande gioia è che c'è il sorpasso. Il sorpasso è determinato dal fatto che sono più i guariti che i malati effettivi. Sono infatti 12.322 le persone guarite dal Covid e 9.536 i malati effettivi. Spiego questo dato. Ovviamente i malati effettivi sono quelli non soltanto che hanno il tampone positivo ma che hanno ovviamente anche una fase sintomatica che riconduce ovviamente a una situazione non sempre da ricovero ospedaliero. In questo caso tanti sono anche tutte le volte curati direttamente a casa, tra l'altro con l'ausilio delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale che vi ricordo non fanno soltanto il tampone ma si mettono anche a disposizione per la somministrazione delle varie terapie. Questo numero che è un numero importante trova poi invece il dato modenese. Sono 3.657 i positivi a Modena, 27 in più rispetto alla giornata di ieri. Sono 7 i nuovi positivi a Carpi, arriviamo quindi a 499 dall'inizio della pandemia. Anche oggi fortunatamente non ci sono decessi. Ora in tanti mi stanno chiedendo ma perché Alberto passiamo da 0 a 6, 7, 7 anche oggi? Che siamo ancora tutti a casa? Beh innanzitutto non siamo ancora tutti a casa, questo è un tema perché ce ne siamo accorti tutti, sta girando più gente, probabilmente anche per futili motivi. Qua non è una questione soltanto di controlli che ribadisco vengono anche fatti ma ovviamente se domani mattina tutti pensiamo che a questo punto sia il momento di andare fuori di casa, non c'è controllo che tenga. Invece bisogna tenere mentalmente e avere prudenza negli spostamenti. Adesso io chiedo sempre quella cosa che secondo me è un valore assoluto che è quella del buonsenso e capire che in questo momento siamo ancora assolutamente esposti e soprattutto possiamo essere noi il veicolo del virus. Ribadisco il virus lo si sconfigge quando decidiamo di non essere più noi i traghettatori del virus stesso, con i nostri comportamenti, col tema delle mascherine, l'igiene ovviamente. In particolare però questo dato dall'igiene pubblica analizzato anche con le indagini fa riferimento a alcuni piccoli focolai che si sono creati, focolaio è un termine sbagliato ma mi serve per fare capire, piccole situazioni di diffusione del virus che sono di tipo o da piccolo nucleo familiare o così come sta avvenendo in alcuni luoghi lavorativi. È una cosa che accade, ovviamente la situazione è in indagine, cioè c'è un'indagine in corso, abbiamo una filiera lavorativa di un luogo lavorativo di quelli che non si è fermato ovviamente perché non aveva un codice a teco di quelli bloccati e ovviamente in una situazione lavorativa poi bisognerà capire come erano i presidi di sicurezza o non di sicurezza e di protezione individuale insomma il virus ha attecchito. Quindi a tutti quanti voi che giustamente e logicamente chiedete anche un commento non soltanto statistico a questi numeri volevo darvi questa che è stata la spiegazione che io stesso ho richiesto ovviamente anche in termini di capacità di intervenire e di fare le dovute riflessioni. È importante che capiamo questa cosa, io proverò a ripeterla tante volte perché si avvicina il 4 di maggio, il 4 di maggio è un appuntamento previsto ovviamente sia nel DPCM ma anche nelle ordinanze regionali. Quanti in questi giorni mi hanno chiesto quando riapriti i cimiteri, i cimiteri sono chiusi da un'ordinanza regionale quindi non posso intervenire io direttamente. Il 4 di maggio c'è quella famosa apertura dei parchi con quelle modalità che voglio ricordarvi, arco temporale, non minori di 14 anni, non accompagnati, ci vuole un adulto responsabile, ci si va per fare la passeggiata, non per giocare a pallone o fare altre cose, le giostre sono chiuse, questo lo stabilisce il DPCM, le ricordo tutte le volte queste cose qua e soprattutto ci sarà una persona dell'associazionismo volontaria a controllare, a segnalare ai vigili laddove ci fossero comportamenti non corretti. Ma il 4 di maggio non dobbiamo mica viverla come è via, andiamo tutti direttamente come se tutto tornasse come prima. La realtà dei fatti ci dice chiaramente che non torneremo come prima in termini, in tempi brevi. Io aggiungo se torniamo come prima, adesso indipendentemente dalla presenza del virus, vuol dire che non costruiamo all'interno delle nostre comunità, della nostra società nel modo di produrre, di lavorare, di vivere assieme, quelli che sono invece dei comportamenti o dei presidi che diventeranno sempre fondamentali. E non parlo soltanto della mascherina, parlo del distanziamento, parlo di avere alcune accortezze, dico semplicemente che forse la frase torneremo come prima è una frase un po' aleatoria o quantomeno sbagliata, dobbiamo tornare a una vita vivibile ma farlo con la sicurezza perché altrimenti ci giochiamo gli sforzi, il patrimonio diciamo così purtroppo anche economico che ci sta costando questa crisi rischia invece di tornarci dietro in un rimbalzo di tipo sanitario. È complicato da capire perché è molto più facile avere una data e pensare che dopo quella data sia Tana libera tutti, adesso indipendentemente dalle scelte che verranno messe in campo dal governo, dalla regione, dobbiamo ragionare come cittadini in una modalità diversa e immaginare che un pezzo della nostra vita per tanto tempo cambierà o almeno fino a che non ci sarà un vaccino o non ci sarà su questo termine tremendo dell'immunità di gregge, cioè vale a dire fino a che questa pandemia non trova una soluzione di tipo diverso e allora bene il 4 maggio è importante però il 4 maggio ci responsabilizza perché se non capiamo mica questa cosa e lo pensiamo come una deregulation totale allora veramente noi rischiamo di giocarci quell'opportunità. Ho parlato in questi termini quando discutevo e riflettevo dell'apertura dei parchi faccio lo stesso identico ragionamento nel momento in cui il 4 maggio ci saranno delle opportunità di tipo diverso. Alcune comunicazioni, non apriremo gli sgambatoi, non apriremo gli sgambatoi contestualmente all'apertura dei parchi per un semplice motivo, la battuta me la dovete far fare, insomma la pipì al cane, la motivazione della pipì del cane è stata oggetto anche di battute varie, non abbiamo avuto i cani così allenati a far pipì anche dieci volte al giorno perché era il modo per fare la passeggiata mi permettete, è una battuta, facciamo un sorriso ogni tanto lo sgambatoio se uno lo apre nessuno mi assicurerà mai che ci vanno dentro meno di tre persone e non si mettono lì come accadeva prima a chiacchierare e noi ci troveremmo con una complicazione ancora di più rispetto al controllo quindi il cagnolino può fare la pipì, può fare anche gli altri bisogni ovviamente la deiezione del cane va raccolta e buttata via, non è che in tempo di covid dobbiamo diventare noi degli incivili a proposito, mascherina e guanti, vi posso assicurare ci stanno nei contenitori cioè si possono buttare via, non è obbligatorio buttarli per terra visto che ne sto vedendo a centinaia e tra parentesi, l'ho già detto un'altra volta chi poi dovrà raccogliere quella mascherina e quei guanti si piglia anche un rischio quindi è un gesto normale buttare via quello che è un prodotto utilizzato non se ne può più di vedere ai bordi delle strade le mascherine soprattutto quelle chirurgiche abbandonate e buttate via anche perché uno si debba raccogliere poi il vostro fiato non c'è un grande fascino in questa cosa quindi vi chiedo di comportarvi ovviamente in maniera civile riaprono le cosiddette isole ecologiche in realtà si chiamano centri di raccolta rifiuti sapete che erano rimasti aperti soltanto per le imprese per un certo periodo avevano chiuso al pubblico riaprono il 4 avranno gli stessi orari pre-covid quindi li potete vedere c'è un post e un link anche che vi rimanda alla pagina di IMAG così avete la dislocazione di questi centri raccolti rifiuti cosa si va a buttare lì dentro valeva prima e vale anche adesso così facciamo un rapido ripasso soltanto quei rifiuti che non possono essere smaltiti in altra maniera ovviamente vetro, carta, barattolame ci sono già i contenitori sono nelle batterie stradali dei contenitori piuttosto che in alcuni punti raccolta condominiale non vanno portati questi tipi di rifiuti nel centro raccolta di rifiuti perché funziona in maniera diversa il centro raccolta di rifiuti e per quei rifiuti che non possono essere smaltiti in altro modo attenzione non si crea aggregazione ora io so che nei giorni del lockdown tanti hanno approfittato quelli che non andavano a lavorare non erano impegnati sull'emergenza non hanno fatto altre cose per vuotare la cantina probabilmente hanno anche un po' di roba lì da parte che devono buttare via perfetto prendono la loro tessera sanitaria di chi è intestatario della bolletta oppure la bolletta stessa si recano nel centro raccolta rifiuti tengono le distanze di sicurezza nel centro raccolta di rifiuti non si entra in più di tre si fa la fila in maniera ordinata non è un luogo di incontro ma è un luogo per dare un servizio non si deve creare aggregazione se si è un'impresa si va lì con la bolletta come si è sempre fatto e questo è sempre stato la modalità di avere accesso non è lì che si va a prendere il sacchetto biodegradabile perché so che c'è anche della gente che si presenta ogni tanto al centro raccolta rifiuti per chiedere anche quel tipo di utilizzo vi ricordo che sono aperte le preiscrizioni per i centri estivi voglio spiegarvi ancora un po' meglio perché ogni tanto vedo le domande la gente deve leggere bene i moduli perché altrimenti non capiamo la preiscrizione non è vincolante allora la spieghiamo in un altro modo noi in questo momento non abbiamo delle linee direttive su quello che sarà il modello anche pedagogico, educativo e di sicurezza da mettere in campo per poter fare non soltanto ovviamente quello che era il lavoro che si faceva prima nei nidi nelle scuole materne ma anche durante un centro estivo e non sfugge a nessuno lo abbiamo capito tutti ne abbiamo parlato anche diverse volte durante le dirette durante il confronto con Ellie Schley per esempio che se si tornasse a lavorare il tema il tema dei bambini è un tema fondamentale per avere un servizio che li mette in sicurezza e che permette ai genitori di lavorare poi io ci aggiungo l'altra questione fondamentale è che i bambini dopo due mesi che non vedono proprio coetaneo capisco che la situazione è dura c'è anche tutto un tema di socializzazione quindi prima arrivano delle linee direttive chiare che ci consentono di avere una reciproca sicurezza prima si può prendere quello che è un elemento fondamentale su cui insomma questa in particolare questa comunità sempre investito stiamo parlando di servizi di eccellenza allora perché le preiscrizioni perché noi dobbiamo cercare di quantificare in questo momento quella che è una potenziale domanda che deriva soprattutto da quelli che hanno frequentato ovviamente scuole comunali e scuole statali c'è stato un incontro quindi presto arriverà la stessa indicazione anche per le scuole convenzionate questo ci permetterà di avere diciamo così una domanda più complessiva di quella che è la potenzialità di richiesta per i centri estivi quest'estate non è vincolante perché in questo momento noi non abbiamo ancora il modello in mano non si deve caparra in questo momento non si deve nulla di tutto il resto fino al 30 maggio noi siamo in raccolta di questi dati ovviamente in base a quella che è la potenziale domanda andremo ad organizzare i centri estivi che probabilmente quest'anno avranno una funzione di centro estivo a cui si accompagneranno alcune soluzioni particolari immagino io dico immagino probabilmente ci saranno limitazioni di tipo numerico ci vorranno luoghi che hanno certe come posso dire caratteristiche dal punto di vista igienico sanitario logistico per esempio io l'ho già detto ho ricevuto anche delle disponibilità da parte di alcuni circoli centri sociali spazi che ne valuteremo assolutamente tutte situazioni di impiantistica sportiva perché se significa tenere diciamo così meno bambini ma in più soluzioni in sicurezza se questa sarà uno dei contenuti e linee direttive o eventualmente un punto di qualità su cui si possono costruire questi servizi ne terremo assolutamente conto queste sono un po' le informazioni legate ad oggi in attesa anche di capire come procederà la parte di indagini che vi dicevo sui nuovi positivi che sono appunto stati individuati all'interno di postazioni lavorative quindi vi ricordate le primissime dirette che si facevano quando si era su quella la definisco così quella linea artigianale di ricerca di contatto con contatto è chiaro che a un certo punto quando il contagio è arrivato vicino ai picchi quella linea di contagio era molto più difficile da andare a identificare ovviamente non si sono mai smesse le indagini epidemiologiche ma è chiaro che ci trovavamo di fronte a delle situazioni di diffusione del virus che da ricostruire erano molto più complicate oggi siamo tornati un po' a quella dimensione tra virgolette artigianale e quindi riusciamo a capire quali sono gli elementi di problematicità fondamentali per questo lo dico a tutti non è il momento di andare a fare la cena dagli amici non è il momento di festeggiare i compleanni non è il momento di assembrarsi perché c'era madame piuttosto che c'era pasqua e ho fatto lo stesso discorso non è il momento questo per prendersi dei rischi dobbiamo comportarci ancora in maniera assolutamente corrispondente alle esigenze che ci sono state segnalate finisco di comportamento in particolare finisco domani è il primo maggio la festa dei lavoratori è una festa molto sentita come è stato fatto durante il 25 aprile non sono previste manifestazioni con partecipazione del pubblico ci sarà una piccolissima delegazione a distanza di sicurezza non ci sarà nessuno fisicamente a combandire o altre cose e sarà un primo maggio particolare io penso che sarà anche un primo maggio che vedrà delle riflessioni rispetto alla particolarissima situazione che stiamo vivendo che ovviamente incide sull'economia quindi sul lavoro e quindi sulla situazione sociale quindi sarà anche un momento penso per fare delle riflessioni importanti quello che vedrete dico vedrete perché lo potrete vedere dalla diretta facebook sulla pagina del Comune di Carpi sarà questa piccola celebrazione piccola ma importante ovviamente nei contenuti celebrazione che ha il patrocinio del Comune di Carpi dell'Unione Terre d'Argine saremo noi sindaci a rappresentare le nostre comunità per questa data che mai come adesso è così sentita così importante in un momento in cui il mondo del lavoro affronta una delle proprie sfide più difficili tanti anni durante il primo maggio abbiamo parlato dei temi che legavano lavoro e sicurezza sul lavoro ma è come adesso immaginare qualsiasi tipo di ripartenza di attività lega il tema della sicurezza dei lavoratori ovviamente al tema della crescita economica e della capacità nostra di produrre ricchezza quindi diventa un elemento fondamentale su cui immagino domani ragioneremo tutti assieme vi saluto e buona serata grazie a tutti